A dove i tempi morti? Signore e signori, le Remagra Show! Signore e signori, buonasera e benvenuti alla maratona per notte denti, accompagnati da personale cardiopatico. I concorrenti si posizionino sui blocchi di partenza. A dove i tempi morti? Potete stare a casa con una birra e un film. Ma seconda! Ma, quando? E lei dica quando? Ma fa il culo! Guarda che sto a me, ma non ti vuole, oh! Guarda che sto a me, ma non ti vuole, oh! Grazie!